Le elezioni per eleggere il nuovo presidente della provincia di Teramo, che si terranno il prossimo 29 gennaio, essendo di secondo livello, chiameranno alle urne solo i sindaci e consiglieri comunali dei 47 comuni della provincia. Sarà a corsa a tre tra Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana, Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro e Domenico Piccioni, sindaco di Tortoreto, quest'ultimo appoggiato da Fratelli d'Italia, Terzo Polo e amministratori locali. Parola d'ordine per il candidato Piccioni, sinergia con tutto il territorio tra mare e montagna, per rendere la provincia di Teramo più attrattiva dal punto di vista turistico, anche grazie ad opere strategiche in fase di realizzazione. L'idea della nostra provincia è che debba essere una provincia unica, nel senso tra mare, collina e montagna. Dobbiamo puntare tutto sul turismo, continuando, perché hanno lavorato con questi finanziamenti, di portare avanti la superstrada da Sant'Onofrio ad Ancarano, ultimare il più prima possibile la Teramo Mare con l'uscita a Roseto-Giulianova, vedere tecnicamente dove deve avvenire, ma questo deve avvenire il primo possibile, per far sì che c'è questa vicinanza. L'altra opera che sta in progettazione, quella da Colledare, che arriva ai prati di Tivo, è importantissimo, perché deve essere la provincia, una provincia turistica di tutto l'anno. Abbiamo un mare eccezionale, abbiamo questi impianti, speriamo il primo possibile che si risolva questa diatriba lì per l'assegnazione. dobbiamo coinvolgere il mare, la collina e la montagna per farsi torni ad essere veramente una provincia attiva e fiorente. Dunque non resta che aspettare il 29 gennaio per vedere come si sposteranno i pesi della bilancia politica da qui a fine mese, ma c'è chi sostiene che il fuoco incrociato dai franchi tiratori alle urne riserverà delle sorprese.